Emanuela Romeo, presidente di Associazione Articolo 3, che ha appena sorteggiato chi si occuperà dei piatti di una cena molto speciale che ci sarà a novembre. Raccontaci tutto. Sì, il 9 novembre saremo al Collegio dei Filippi di Varese dove quattro squadre di cuochi per una sera si sfideranno i fornelli. Ognuno di loro cucinerà una portata e i commensali voteranno qual è la portata migliore. Perché il Grand Line Blue servirà a raccogliere dei fondi per i progetti dell'Associazione Articolo 3 che sostiene le persone con disabilità, le loro famiglie, sia a livello burocratico che a livello economico. Comunque tutta la fragilità in generale cerchiamo di sostenere ed aiutarla. Quattro squadre impegnate, ci saranno gli imprenditori, ci saranno i vigili del fuoco, ci saranno i politici e i giornalisti, ognuno con una portata, la serata aperta a tutti. Quindi già da adesso ci si può iscrivere. Assolutamente sì, ci sono 150 posti disponibili, non proprio 150, forse qualcosa meno. Quindi affrettatevi a prenotare. Come farlo lo troverete sulla pagina Facebook di Associazione Articolo 3 o sulla mia pagina personale di Emanuela Romeo. Chiamateci e noi vi terremo il posto. Aiutateci ad aiutare. Gianni Lucchina, segretario di Aime, che anche quest'anno sosterrà il Gran Galà in blu organizzato dall'Associazione Articolo 3 Varese. Sarà un appuntamento speciale, divertente, ma soprattutto importante dal punto di vista della beneficenza. Sì, un bell'appuntamento che è una caratteristica sempre distinta dalla nostra associazione, quello di legare la rappresentanza delle imprese e degli imprenditori in rapporto stretto alle altre associazioni e ai bisogni delle persone meno fortunate di noi. E siamo orgogliosi di dare davvero un contributo in questa direzione. Grazie a tutti.